Vi è mai capitato, anche dopo mesi, di correre con entusiasmo riguardare le foto delle vostre passate vacanze e accorgervi che... Volete degli scatti memorabili per quest'estate 2016? Seguite questi 5 piccoli consigli e non ve ne pettirete! Sungonfiabile gigante in piscina Con un cocco da bere Giocando con la prospettiva Con un disegno sulla sabbia usando la fantasia Una foto simpatica con la tua migliore amica Questa è sicuramente una guida semi seria ma vi garantirà tanto divertimento, tanti ben ricordi e anche dati like! Grazie per la visione! Grazie a tutti!